benvenuti amici di smartworld.it oggi è il primo aprile ma io non sono qui per farvi degli scherzi anche perché non ne avrei abbastanza la voce quindi non mi perdo in preamboli e vado subito a riassumere quelle che sono state le notizie principali della giornata giornata che è stata senz'altro all'insegna di chrome os partiamo con asus che è il produttore diciamo principale legato a questi nuovi chromebook che in realtà sono anche qualcosa di più come per esempio l'asus chrome bit è una pennina hdmi da collegare a qualunque monitor che non va confusa con qualcosa tipo chromecast per capirsi è un pc in miniatura caratteristiche di livello di fascia abbastanza bassa però l'idea è appunto quella che magari utilizzate in accoppiata con tastiera e mouse wireless un pc con chrome s possa essere compresso anche appunto fino a delle dimensioni così portabili arriverà in estate ad un prezzo inferiore ai 100 euro sempre asus chromebook flip il primo chromebook che si ripiega su se stesso e diventa anche un tablet da lenovo ad hp non sono nuovi diciamo questi prodotti questi laptop che girano lo schermo per farlo diventare sostanzialmente un tablet qual è la differenza la differenza è che chrome os non è nato come sistema touch però proprio oggi google ha annunciato che tutti gli sviluppatori potranno portare con maggiore facilità le proprie app android su chrome os e quindi il fatto che arrivi un dispositivo di questo tipo è un po' una sorta di anello se vogliamo di congiunzione mancante tra il mondo chrome e quello android vedremo appunto se sarà un dispositivo sul quale google e asus spingeranno e che avrà poi appunto un suo seguito soprattutto perché è interessante appunto questa unione dicevo tra chrome os e android sempre in materia di chromebook abbiamo poi altre due proposte di hisense e air molto economiche 149 dollari abbiamo anche recensito il monitor dlg che intravedete qui da questo lato la videocamera non vi fa apprezzare il fatto che è un monitor più o meno di queste dimensioni larghissimo è un 21 noni 34 pollici esperienza davvero particolare andate a vedere la recensione su smartworld.it oggi è stato anche il giorno del lancio ufficiale delle chiamate via whatsapp per android e blackberry niente iOS per il momento si dice che arriverà a breve però appunto sapete sempre che queste voci di a breve possono avere un significato temporale poi molto diverso concretamente sempre in tema di recensione abbiamo provato galaxy j1 che se Emanuele fosse qui in stanza con me è nella stanza accanto non si è perso so che mi guarderebbe male se volete sapere come mai andate a guardare la recensione di galaxy j1 per quanto riguarda invece un altro dispositivo sempre smartphone android ovvero nexus 5 sono iniziati i lavori per portare la miui 6 su nexus 5 un passo diciamo in qualche modo strano ma comunque importante che testimonia la volontà appunto di questo firmware di non rimanere confinato se vogliamo ai soli smartphone di xiaomi la beta partirà il 7 aprile 30 fortunati si saranno tra i primi beta tester chissà che non ci sia anche qualcuno di voi aggiornamento l'olipop per lg g2 vodafone vodafone che si conferma uno degli operatori più rapidi nei vari aggiornamenti complimenti quindi a lei e ai proprietari di g2 è disponibile in italia invece il lumia 640 xl l'abbiamo conosciuto al mobile world congress di quest'anno potete dare un'occhiata alla nostra anteprima in ogni caso è disponibile all'acquisto e infine una notizia che inizialmente avevo preso per una sorta di pesce d'aprile ma che in realtà non lo è scusate facebook lancia scrapbook che è sostanzialmente un album fotografico per i minori di 13 anni l'idea può essere anche carina si vocifera che facebook stia già pensando un modo per trasformare questo album fotografico in un profilo completo a raggiungimento dei 13 anni di età quindi forse diventerà un modo facile per accaparare anche nuovi utenti che verranno in poche parole creati dai genitori stessi di quegli utenti facebook pensa già al suo futuro e con questo è tutto e per oggi vi saluto